Sarebbero 5 al momento le persone indagate a Brindisi nell'ambito di un'inchiesta della Procura su una presunta compravendita di voti che sarebbe avvenuta durante le amministrative della primavera del 2023. L'ipotesi di reato nei loro confronti è quella di corruzione elettorale. La notizia è riportata dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Si tratterebbe al momento di persone fuori dal contesto politico. Tra gli indagati c'è il 53enne Brindisino Vincenzo Corsano, già in carcere, per un'altra inchiesta per associazione per delinquere finalizzata ai furti d'auto. Proprio da quell'inchiesta emerse l'ipotesi di voti comprati per 30 euro ciascuno durante le amministrative di oltre 18 mesi fa. Il pubblico ministero titolare del fascicolo ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari a carico delle 5 persone, tutte ritenute vicine a Corsano. L'obiettivo è accertare attraverso accertamenti di natura tecnica, come si legge negli atti, un elemento di prova a carico degli indagati. L'indagato, si legge ancora nel provvedimento, aveva contatti con una persona non meglio identificata, che in occasione della competizione elettorale che si è svolta a Brindisi a maggio 2023, lo incaricava affinché si adoperasse per procurare voti da parte di cittadini non meglio identificati, dietro compenso pari a 30 euro a preferenza, da documentare con una fotografia scattata nel seggio con uno smartphone. Sono ancora in corso accertamenti su chi avrebbe commissionato il procacciamento dei voti e chi sarebbe stato il candidato a cui sarebbero state destinate le preferenze comprate per 30 euro.